SOS Autismo in Campania nasce l'osservatorio regionale per offrire alle famiglie, ai pazienti cure mediche, assistenza socio-sanitaria e tutela legale. Un numero verde 836 7701 ed una piattaforma web www.osservatorioregionaleautismo.it per migliorare la qualità di vita e favorire la piena integrazione degli autistici. L'osservatorio ha sede a Lusciano, in provincia di Caserta. Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, Stefano Graziano, Salvatore Galeone, presidente di Percorsi per Crescere e il direttore dell'osservatorio, Sergio Canzanella. Ci sarà la lotta al dolore burocratico, che è il dolore più grave che una famiglia possa sopportare. Cosa significa? Che molto spesso le famiglie hanno a che fare con le pubbliche amministrazioni, fra scartoffie, documenti, pareri, delibere, affinché venga riconosciuto il loro diritto di LEA. Cioè nel 2017, nei nuovi LEA, sono stati l'ex ministro della Salute Lorenzin, finalmente dietro alle pressioni del mondo del terzo settore, è riuscito a far approvare il metodo AB-RBT gratuitamente a favore di questi ragazzi. E in più una cosa importante è che tale prestazione sono del tutto gratuite. Oggi, da tutto.